Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fipili in direzione Mare per lavori, un chilometro di coda tra Montopoli e Ponte d'Erest. In direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Su raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione Sud. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!